Mi alza un po' alzitino, alzitino, alzitino Ah, glielo mettiamo sotto, glielo mettiamo No, 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 ma solo il filo, raga, il filo, devo far passare il filo Salve ragazzi, eccoci qui con i nostri gameplay, quelli brutti E oggi è proprio qualcuno per il gioco, quello possiamo vedere È una bella posizione qui Allora, come funziona? Allora, ci facciamo tre combattimenti, tre mangi E niente, io e Gianluca prendiamo il solo Quali testi si usano? Appunto, come l'ho già detto Gianluca prendiamo il solo finisce Abbiamo fatto una modalità Dino, che sarei io Modalità Dino? Sì, perché siccome siamo scarsi, quello Tre vite finisce in quattro secondi E facciamo Dino che abbiamo vite limitate semplicemente in tempo Da un po' quando siamo pro, abbiamo sbloccato tutti i personaggi Abbiamo avuto i personaggi, aspetta, abbiamo avuto i personaggi fino a che non esce la... Che non mi fanno uscire, oh, non lo farà uscire Stam'ignorato, ragazzi Stai! 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 11 15 15 15 15 15 15 16 16 VIA 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 LIA Fai in modo lungente! che maledetto! questo gioco è... E' COMO, LO PRENDO IO! SQUERO! ma perchè una mano gigante? SQUERO! SQUERO! ma perchè una mano gigante? ma non è vero 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 ma chi è che tu hai detto lampa a posta la bocca oddio il bagnolezza vai con l'ultimo bam ma ce l'avevo io perciò se se lo qui si tratterebbe senza lo scopo tassi a caso ho la ciavisa ah beh carica non vola però dai che gioco eh carica non vola e visto mai è un pollo volario ma non è solo il bambino odio via che abbai bene Oggi sto provando appalata? Sì! Sì! Guardami bollare il languido! Quando ti ho regalato ultimo? Io sono sicuramente violone! Guardate! Guardate! Gioca da tre anni! Oh! Il fisogio è arrivato secondo! Ma dov'è non sono l'ultimo! Però sono un kibin! Un kibin! Un kibin sembrava molto contrariata! Più 5 però! Grazie! Dov'è? Trainer WeFit! Oh no! Ma c'è il YouTube! Ho visto il YouTube! Ho un bel... Guardiamo lo santo! Ho progresso... Ho progresso... Vediamo se mi capita qui! Ma no! Olimar è l'unico che non so ne abitanti! Trainer WeFit! Ma devi sapere questo! Via! Piccola piccola... Momento di ignoranza! Chi cazzo è Olimar? Scusate Nintendo! Lo so! Eh... Il video dice questo! Ti piace di conoscervi ragazzi! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ma chi è Olimar? Ma dove si fuga fuori? Io non so neanche come nasce questo! Ah! Intanto... La presa! La presa! La presa! Ti fai prendere! Ma questa la schiaccia? Oh! Ma non è che il video lo fa prendere! Che... Troppo questo! Ma smiditi di seguirmi a me! Ti lanciano! Ma io non mi ricordo più! Ti sparo! Tanti che lanciano alzini! No! Qua abbiamo i ghiaccioi giganti! Perfetto! Trainer WeFit! Io ce l'ho di piede! Non lo so ne ho beccato! Scatù! Secondo me che penso questa se devo... Ma perché non sei da ribalzare? Buono! Quello! 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 Special! 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 No, hai subito! Sì, la Smash! Pensavo di essere io! Guarda quell'ana! Allora, io mi ricordo che una volta lanciava le palle di questa, ma che cambiate! No, lanciava tipo delle... La cosa più difficile di Smash è il passaggio, è l'ambiente proprio... Presa! Presa! Boom! Vabbè, però c'è qualcosa che non va! Cioè, mira non far spell! Aspetta! Io... Io sto sopravvivendo là nell'angolo! Ma c'è il fotomo! Che fotomo ne è? Io non conosco qua, che fratello di Vigas! Che fratello di Vigas! Ah, non mi ha fattuto! Nooo, mi sono fregati gli anieri a me, ma non credo! Sto bene! Rainer, we fit! Bam! Bam! Oh! Fermate quell'uomo! Mi ha rubato! E' il rabbit! L'acqua pieno! No no, quello è rabbit! Quello è rabbit! Non è un rabbit! Ultimo! Questo è un altro allievo! Che ho preso? Rainer, we fit! Boom! A me! A me mi hai preso! A me mi hai preso! A me mi hai preso! Dio Dio, via Samus! Via Samus! Rultipendi! Che non riesca a fare! Guarda che fai azioni! Tu hai avuto un fi per l'amore del cielo! Perché ti sei messo sul progresso? E' un'altra cosa! 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 Io sono ultimo! Secondo! Trainer, we fit! Non so neanche io! Non lo so usare! C'è l'unico messaggio che ho proprio imparato! Ah si si! Scusi! Quelli voi venni! Sono il nuovo! Il nuovo slint anche stappo! Tutto! Che è quello? Perché c'è un cervello gigante? Stato! Non lo so! Mamma! Fatto bene! Sono io! Merda! Ecco! Bastardo! Ehi! Guarda un po' la vada che finco una! Ma ma c'ho quello che spruzza! L'asmetti! L'asmetti lo sa spadalura! Guardalo! Io quando cambia l'ambiente che mi perdo le madonne! Mamma! 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 Ehi! Ma non è schifata! Ok! Aia! Aia! C'è un buio! Dio Dio Dio! Su! Tutti! Perché c'ha meglio il cervello? E' il resto! Preso! Preso! Stompato! 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 Ma veramente? Non lo so! È un improbabile! Credo di sì! Credo di sì! Lo schifo! Ma non ho preso al mezzo! Ma non ho preso al mezzo! Non ho preso! e sono morto non so come sono fuori morto ma mi ha messo l'ho andato a prendere trainer wiffi ma come è andata in pesa lui l'ha in idea sono morto sul giro con la pisa oh no ma perché non l'hai presa vittimo che o per evitare in entanto ti cago ti cago anzi hai cagato che te vede non ti c'è 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 ma 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 quello c'è che sta che sta le mosse che sono le mosse vabbè mi sono suscitato pure da solo guarda guarda via ma mi mangio ma che mi sono suscitato da solo scusa oh mio dio da perché fagli un attacco fagli un attacco fagli un attacco cazzo fagli il mio culo fagli un attacco bravi tutti bravi bravi io gioco qua a voi guardate la sua pancatezza che non provo calde hai perso per un colpo per un colpo un solo colpo questo è il best boss ragazzi mi preoccupo quando programmi un red winning dentro di te cazzo fagli un colpo fagli un colpo vabbè se vi piace spesso volete comprare lo io sì aspetta un momento come si chiama lion e lei? come si chiama un interno se incontrate dei dino demon non online lo scopri non lo scopri se mi piace che mi piace ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahaha API che uomo pit lo so che è lei Qua c'è fuori Waluigi Gaimè, non c'è. Waluigi non è la truffa della Nintendo, se lei fosse Peach, io col ciuffo che l'ha andata a fare, io so, è il Link che mi dice, eh, pottini, capito? Sì, questo contesto è brutto. Vabbè, Waluigi Gamers... Perché tu conosci bene l'Italia? Ci parlo di notte, il dottore mi ha detto che può far più peggio. Ma comunque mi sta nei rolling di qualche problema di italiano. Trainer, we fit! Kimi! Salve a tutti e ciao ragazzi. Ciao ragazzi!